Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. La nuova introduzione vede me con tutte le maglie che mi piacciono di più ma soprattutto sono maglie commemorative come ad esempio quella di Giffoni, quella di Lina d'Ombra, Festival Cinematografici, quella di Arduino che ho vinto ad una fiera a Makefair di cui ho due vlog sul canale. Poi abbiamo anche la maglietta di Scuola Zoo quando sono stato rappresentante di istituto, un'esperienza fantastica per me, quindi troviamo all'interno di questa intro tutte le maglie che rappresentano un pochettino il mio canale, più questa che parla di matematica, io studio ingegneria e dopo questa fantastica introduzione che spero vi sia piaciuta, che credo di mantenere per tutti i miei video, voglio brevemente elencarvi i componenti della mia postazione che poi troverete descritti in vari dettagli dei video sul canale. Troviamo un MacBook Pro da 13 pollici 2019 Luglio da 256 quello con solo due porte Thunderbolt, un cubo di Rubik perché è sempre sfizioso per un cubo di Rubik ragazzi se non ce l'avete in un momento di stress eccetera lo fate, lo imparate veramente in una giornata ma poi dopo non ve ne mentirete, lo farete sempre. Un Wally fantastico che se non seguite il canale vi invito a seguire, iscrivervi, attivare la campanellina delle notifiche per vedere lui come mascotte soprattutto nel video di iPhone 11 ovvero il telefono che sta girando questo video. Lui mantiene un iPad di sesta generazione, il modello economico per capirci che per me è fantastico per studiare, infatti studio solo con lui, trovate i video riguardanti le applicazioni che utilizzo come GoodNotes e Notability sul canale, poi abbiamo la Apple Pencil di prima generazione in quanto con l'iPad è compatibile solo quella ma trovo fantastica, quella di seconda gen ha i suoi vantaggi poi magari ne parliamo in altri video dettagliati, una piantina IKEA perché ragazzi chi è che non vuole avere una piantina IKEA sulla postazione? Poi troviamo una bellissima soundbar di Panasonic di cui sono molto soddisfatto che esce in audio ottico dalla Xbox One S che trovate lì, bianca, con il relativo controller e vanno entrambi su monitor sull'HD Samsung curvo da 24 pollici, molto molto carino che si sposa bene con la mia postazione e poi ho un ecodot di terza generazione, ora si sarà triggerata, che con una striscia led RGB e questo fantastico poster di Avengers completano la mia postazione, è molto ricca riesco a migliorare lo schermo sul secondo schermo esteso e anche sull'iPad con Sidecar, ne parleremo in un video dettagliato riguardante l'ecosistema Apple e ovviamente strimare l'audio sulla soundbar dai miei dispositivi dato che ha sia il Bluetooth che l'audio ottico, quindi quando collego il Mac alla Xbox con il cavolo ci passa anche il canale audio in maniera tale da avere la soundbar collegata e posso collegarla benissimo al telefono per strimare un po' di musica quando sono qui. Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, fatelo sapere qui sotto nei commenti con un bel mi piace, noi ci vediamo in un prossimo video!